Quelle proposte le faremo presenti in tutte le sedi romane istituzionali, sia dal punto di vista delle relazioni con Ferrovia dello Stato, sia dal punto di vista della Commissione Trasporti e Infrastrutture che potrà impegnare il Governo in sede di Commissione. La promessa è stata mantenuta. Il Vice Presidente della Camera Luigi Di Maio è il primo firmatario di un'interrogazione datata 10 giugno 2016, con la quale si chiede al Ministro dei Trasporti, Graziano Del Rio, l'impiego dei moderni treni Freccia Bianca nello Stretto di Messina, in sostituzione dei vecchi convogli che al momento di essere imbarcati sui traghetti devono essere letteralmente smontati e rimontati con lunghe e complesse operazioni. Il rappresentante del Movimento 5 Stelle, sostenuto dai colleghi parlamentari Alessio Villarosa e Francesco Duva, spiega dettagliatamente al Ministro cosa ha direttamente verificato il 25 aprile scorso alla stazione marittima di Messina durante un sopralluogo. I collegamenti nel fondamentale snodo dello Stretto di Messina, evidenziato Di Maio, sono fuori dal tempo, non certo adeguati ad un paese europeo nel 2016. I treni Freccia Bianca, considerando le loro caratteristiche tecniche e la loro lunghezza, potrebbero essere imbarcati in un'unica manovra. Ore di tempo risparmiate su lunghe e medie percorrenze. La soluzione è sempre stata sostenuta sul territorio dal sindacato Orsa. Adesso la proposta è finalmente sulla scrivania del Ministro dei Trasporti, chiamata a rispondere per iscritto all'interrogazione dei 5 Stelle che bocciano il ponte sullo Stretto e propongono intanto una soluzione immediata per rendere più efficienti i trasporti tra Sicilia e Calabria.